SORPRESA! 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 Ciao Lilli! Siamo tutti insieme! Proviamo farti questa bellissima sorpresa! Speriamo che ti piaccia! Ciao! Una maestra in pensione! Evviva finalmente! Dopo anni è arrivata! Oh, quanto è stata dura l'arrampicata! Ritira il tuo premio! La sognata pensione! In essa vive una grande dedizione! Sei stata una collega straordinaria! Con la tua faccia sempre volaria! Quanti giorni vissuti tra i bambini, dai volti nuovi e i tanti sorrisini! Pensa mai guardare il tuo orologio e ricevendo di rado qualche elogio! Impegnata a migliorare gli apprendimenti! Non pensavi, certo, alle tante ore eccedenti! Vei momenti vissuti a sorridere e faticare! E a dirti che questo lavoro lo si deve amare! Carissima! Una seconda vita è lì che ti aspetta! Che bello! Potrai far tutto senza avere fretta! Su! Ora ha inizio un periodo importante! Certo! Non smetti i panni di insegnante! In verità di ricordi ce ne lascerai tanti con i tuoi modi pacati e rassicuranti! Sti felice per il traguardo raggiunto! E mettici pure al tuo lavoro un bel punto! Per i tuoi bambini sei stata una maestra speciale! Per noi tutti resterai una collega e un'unica leale! Auguri! Auguri! Buona vita! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie!